Siamo a Basovizza, il centro dell'Ozaria del campo sportivo. Abbiamo organizzato anche quest'anno, nonostante il tempo, una manifestazione splendida. Purtroppo il meteo non ci ha dato una mano. I campioni si sono presentati in gran spolvero, in particolar modo Mitia Kosovelli, Alic e Brega. Hanno fatto un risultato veramente eccezionale. Addirittura Kosovelli ha sfiorato il tempo di abate, nonostante il tempo e soprattutto il terreno molto fangoso. Il tempo di abate, nonostante il tempo di abate, nonostante il tempo di abate, nonostante il tempo di abate. Ci sono due controlli sul Monte Stena. Checkpoint Monte Stena. Sarà segnalato il numero con il penarello al passaggio al Monte Stena. E ho filmato sul Monte... E ho filmato il tempo di abate, nonostante il tempo di abate, nonostante il tempo di abate, nonostante il tempo di abate. E ho filmato il tempo di abate, nonostante il tempo di abate, nonostante il tempo di abate, nonostante il tempo di abate. E ho filmato il tempo di abate, nonostante il tempo di abate. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.